Allora, salve ragazzi! Ci vediamo il 18 dicembre al Parco della Musica, Sala Sinopoli! Sì, al Parco della Musica, oh cielo, ma hai dimenticato l'orario, Kermit, alle ore 21. Eh sì, va bene, ma cacchio e controcacchio, allora dite pure l'anno, no? No, 18 dicembre, ore 21, 2018. A parte Peter che hai dimenticato la risata finale, eh, vabbè, te l'ho fatta io. Ma poi si tratta del Gran Premio del Doppiaggio, avanti, la cosa più importante. Quindi ricapitolando, Gran Premio del Doppiaggio, 18 dicembre, ore 21, Auditorium, Sala Sinopoli. Non mancate!